Se hai bisogno di soldi, una giunta dell'axo o completi modati non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, nextgen e allgen ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS in descrizione trovate i gruppi anche per playstation E adesso al nuovo video Bentornati raga Qua è Savix che vi parla Ragazzi con l'uscita del nuovo DLC E' uscita una duplicazione bomba, fantastica, allucinante Requisiti, base operativa e Avenger ragazzi Non ci servirà nient'altro a parte il veicolo da sacrificare ragazzi E la nostra ISI che è il veicolo da duplicare ragazzi Quindi non ci resta altro che salire ragazzi su una delle LG che abbiamo messo all'interno della base operativa Che saranno i veicoli da sacrificare E dovremo mettere anche la nostra ISI Quindi raga saliamo sulla LG E una volta che siamo sulla LG ragazzi schiacciamo freccia sinistra mi raccomando Freccia sinistra per entrare dentro la Avenger a modificare il nostro veicolo A questo punto ragazzi non ci resta altro che andare a mettere la prima targa ragazzi Usate questa che costa poco Comunque sia penso che funzioni anche con qualsiasi modifica E uscite dall'Avenger ragazzi Aspettate qualche secondo non vi preoccupate se vi fa questo freeze E una volta che saremo spawnati regà di nuovo nella base operativa Dovremo semplicemente salire sulla nostra ISI ragazzi E una volta che siamo sulla ISI schiacciare a suo giro freccia destra ragazzi Fondamentale mi raccomando non vi sbagliate Perché se no rischiate di bruciare la ISI Quindi schiacciate freccia destra regà E una volta che siete in questo menu delle modifiche Andate a mettere la targa che abbiamo messo prima sulla LG A questo punto non vi resta altro che uscire dall'officina E uscire dalla base operativa A sto punto semplicemente ragà dovete rientrare dentro la base E una volta che saremo rientrati ragazzi all'interno della base E sbadabamme regà Abbiamo fatto la prima duplicazione ragazzi Adesso se volete continuare a duplicare Non vi resta altro che salire sulla LG ragazzi E rifare tutto lo step Raga questa duplicazione è massiva È una bomba Approfittatene Se volete farvi un botto di ISI Perché veramente sicuro come loro Giovedì questa duplicazione sarà pacciata ragazzi Lasciate un like, lasciate un commento Sostenete Xavix E sbadabamme regà Al prossimo video Buona visione 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 Grazie.